Tre iscritti nel registro degli indagati, tra medici e sanitari, è una dinamica ancora da chiarire. Sono ore di apprensione per i genitori del neonato, morto il 2 giugno scorso nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Iazzorino di Vibo, poco dopo la nascita, avvenuta tramite parto cesareo. I giovani genitori di Santiago Arena, Antonella e Marco, entrambi di Tropea, hanno deciso, dopo la tragedia, di rivolgersi alle forze dell'ordine, assistiti dall'avvocato Francesco Arena. In quest'ora hanno sporto e denuncia contro i gnoti per chiedere che venisse fatta chiarezza sulle circostanze della morte del loro bambino. Come sempre accade in questi casi, il discrimine fra la disgrazia legata alla casistica naturale dei decessi post-natali e l'errore nelle procedure sanitarie è molto labile. A fissarne i contorni contribuiranno le indagini condotte dalla squadra mobile di Vibo Valencia, guidata dal dirigente Orazio Marino e coordinate dal PM della procura vibonese Vittorio Gallucci. Fondamentale il prossimo passo, l'accertamento autoptico sulla salma del neonato, che verrà effettuato giovedì dal perito nominato dalla procura, il medico legale Catiuscia Bisogni. Secondo quanto dichiarato dal legale della coppia, al momento del ricovero, domenica sera, la giovane madre aveva superato da 11 giorni il termine della gestazione e accusava contrazioni e dolore al ventre. Il cesario è stato effettuato lunedì mattina. Nella notte la donna sarebbe andata incontro al distacco della placenta. Alla nascita Santiago sembrava sano, pesava 3,950 kg, ma dopo aver pianto, il piccolo sarebbe andato in arresto cardiaco per morire pochi minuti dopo.